È un testimone pesante, visto i risultati ottenuti sia da parte del vecchio Presidente del Cug, sia da parte dell'OIV, che dire, io spero di essere all'altezza e di continuare insieme ai colleghi del Cug e dei colleghi dell'OIV in questo esercizio che è stato veramente di rilievo notevole. Come diceva Mimma, sono state proposte anche dei miglioramenti al questionario che verrà somministrato con la prossima intaggine. Speriamo così insieme a tutti i colleghi del Cug di poter collaborare con il rappresentante dell'ANAV, oltre con i colleghi dell'OIV, di continuare in questa esperienza, di poter fare sinergia e di andare avanti. Ho visto col collega dell'ANAC, il Dottor Bellinzoni, una mia vecchia conoscenza, abbiamo lavorato tanti anni fa insieme quando lui era appena laureato nel ASSUN, eravamo AMPA, quindi abbiamo avuto modo di lavorare insieme già nel passato, quindi sarà una nuova occasione per lavorare insieme, insieme a tutti i colleghi del Cug. Adesso lasciamo la parola ai ricercatori, così ci danno un po' i risultati di questo lavoro e vedremo quali saranno le novità e le migliorie da portare anche per il futuro. Grazie.